Buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo di ipertrofia prostatica benigna di tumore alla prostata. Ne parleremo con il professore Danilo Di Trapani che è direttore dell'unità operativa di urologia dell'ospedale Buccheri Laferla di Palermo, anche specialista in urologia e andrologia. Buon pomeriggio professore, grazie per aver accettato il mio invito. Buon pomeriggio, grazie a voi. E allora professore, che cos'è l'ipertrofia prostatica benigna e il tumore della prostata? E allora l'ipertrofia prostatica benigna è una malattia molto diffusa, interessa una buona parte per gli uomini da oltre i 50 anni. Ed è una malattia che purtroppo comporta una serie di limitazioni da un punto di vista della qualità della vita, quindi comporta la necessità di urinare spesso, interruzione del sonno della notte, la possibilità di infezioni urinarie, di calcol, di sangue nelle urine, eccetera. Quindi è una malattia molto diffusa e che comporta, ripeto, una limitazione della qualità della vita. Per quanto riguarda invece il tumore della prostata è molto più subdolo, è anche questo molto rappresentato nella popolazione. Un dato da tenere presente è che per il tumore della prostata esiste la familiarità, che non è una ereditarietà, ma significa che le persone che hanno in famiglia un genitore o un fratello o un parente stretto che ha avuto un tumore della prostata hanno una maggiore probabilità di incorrere in questo tipo di malattia. Quindi un controllo, la prevenzione per il tumore della prostata è estremamente importante. Il tumore della prostata e l'ipertrofia prostatica interessano zone diverse della prostata, ecco perché mentre l'ipertrofia prostatica dà rapidamente segno di sé con questi disturbi della minzione, il tumore della prostata invece è molto più subdolo e quando si manifesta, si manifesta purtroppo con le malattie avanzate, per cui per il tumore della prostata è fondamentale la prevenzione. L'ipertrofia prostatica dicevamo invece è una malattia molto frequente, che consiste nell'aumento di dimensione della porzione centrale della ghiandola, che schiaccia l'uretra, cioè il tubo che porta fuori le urine, quindi ti collega la vescica con l'esterno, e comporta una difficoltà ad urinare, un rallentamento del getto, il ristagno, quindi una vescica che non si svuota completamente, quindi una vescica che si riempie più rapidamente. Questo fa sì che si urina più spesso, si urina anche di notte a volte, e questo ovviamente è un fastidio, ma non solo, perché un ristagno significa una maggiore probabilità di insorgenza, di infezione, ed ancora in vescica un ristagno significa che anche una serie di sostanze co-cancerogene, quindi sostanze che possono indurre l'inoplasia anche della vescica, ristagnano e fanno un effetto negativo costante 24 ore su 24 sull'opera della vescica, quindi l'ipertrofia prostatica, che è una malattia benigna, può finire per innescare una serie di meccanismi che possono portare a malattie ben più gravi. Soffermiamoci appunto sull'ipertrofia prostatica, se adesso come è stata trattata? Cioè qual è stato il trattamento sia farmacologico che chirurgico? L'ipertrofia prostatica è una malattia molto diffusa che si giova in un primo momento di terapie farmacologiche, è una malattia molto capricciosa che può andare avanti a fussè, può anche non andare avanti, quindi fermarsi con dei disturbi lievi e non avere una progressione e quindi giovarsi, ripetevamo, dicevo poco fa, di una terapia farmacologica, ma quando la terapia farmacologica non è più efficace o non è più praticabile, perché questi sono farmaci che possono indurre un abbassamento della pressione, quindi per esempio pazienti che possono avere delle lipotimie, cioè la perdita di coscienza quando si alzano specialmente durante la notte, ecco perché una patologia benigna può finire per avere una serie di conseguenze importanti, diciamo che questi pazienti possono essere sottoposti a degli interventi chirurgici, interventi chirurgici che fino ad ora sono sempre stati effettuati attraverso l'uretra, quindi attraverso il tubo che porta fuori le urine dalla vescica all'esterno. Questo che cosa comporta? Questo comporta la necessità di interrompere l'uretra, quindi il rivestimento di questo tubo e di addentrarsi all'interno della ghiandola prostatica. Questo ovviamente ha delle conseguenze, innanzitutto qualunque sia il tipo di intervento praticato, la seconda foto dimostra quella che si chiama resezione endoscopica, che consiste appunto nel fare una serie di piccole carotine di tessuto che vengono tirate fuori con tecniche varie, con una tecnica monopolare o con la tecnica bipolare, questo è un fatto tecnico di scarsa importanza per chi non è addetto ai lavori, oppure possono essere utilizzate una serie di altre tecniche, come per esempio il laser verde, e abbiamo una foto che fa vedere appunto come questa luce verde finisce per far evaporare il tessuto, quindi praticamente lo polverizza, oppure ci possono essere una serie di... Come va a averte questa luce? Il tipo si chiama green laser appunto perché la luce che produce è proprio verde, poi ci sono degli altri laser che hanno una luce di colore diverso, ma non è questo, dipende dalla lunghezza d'onda del laser, quindi non è questo l'importante, l'importante è l'effetto sul tessuto. Il green laser comporta appunto una polverizzazione del tessuto che quindi viene eliminato nelle urine sotto forma di polvere. Oppure si possono utilizzare una serie di altre tecniche che si vanno per esempio il rezum, che è una tecnica che consiste nell'infiggere un ago sempre attraverso l'uretra, quindi viene sempre traumatizzata il rivestimento di questo canale, e comporta appunto una, anche qua con il vapore, una necrosi del tessuto prostatico. Esistono anche altre tecniche più o meno invasive, ma sono sempre tecniche che attraversano l'uretra, quindi danneggiano l'uretra. Questo comporta una serie di problemi, innanzitutto il problema del sanguinamento, innanzitutto, in seconda battuta, il problema dell'eiaculazione, perché voi sapete che l'eiaculazione è il risultato del prodotto della prostata, delle vescicole seminali che sono due sacchetti che sono posti posteriormente alla prostata, e ovviamente quello che è il contenuto in spermatozoi che provengono dai testicoli. Quindi questo volume di liquido seminale viene eiettato fuori grazie alla formazione di una specie di camera di scoppio che è all'interno dell'uretra prostatica, ma se con l'intervento chirurgico e tutti gli interventi chirurgici danneggiano la possibilità di formarsi questa camera da scoppio, quindi l'eiaculazione per lo più non viene mantenuta. Senta professore, tutte queste tecniche comunque richiedono l'anestesia spinale, mi sembra di capire. Sicuramente tutte queste tecniche debbono essere effettuate o in anestesia generale o in anestesia spinale. Questo è sicuramente un limite, nel senso che ci possono essere una serie di patologie che controindicano questo tipo di anestesia, per esempio pazienti cardiopatici, pazienti che hanno problemi respiratori importanti, i pazienti che hanno coagulopatie importanti. Quindi ci sono dei pazienti che purtroppo, nonostante l'avanzamento delle tecniche anestesiologiche, nonostante l'utilizzo di farmaci estremamente maneggevoli, però ci sono dei pazienti che sono costretti a mantenere il catelera a permanenza per tutta la vita, perché non sono pazienti che possono essere sottoposti ad interventi tradizionali, quindi con la necessità innanzitutto di una ospedalizzazione e poi con la necessità appunto di un'anestesia. Ora, sai, invece oggi sappiamo che esistono altre tecniche mini-invasive che riducono rischi, tempi di attesa, decenza e tutto. Certo, oggi per fortuna ovviamente la tecnologia, l'urologia è una delle branche che si è giovata maggiormente della tecnologia, una delle tecniche chirurgiche assolutamente mini-invasiva. Che vuol dire mini-invasive? Quindi intanto con un insulto veramente minimo per il paziente. viene effettuata in anestesia locale, viene effettuata ambulatoriamente, quindi il paziente non deve neanche dormire in ospedale, quindi il paziente viene trattato e poi il paziente va a casa, quindi con una tecnica veramente che è un insulto minimo per il paziente, è una tecnica che è assolutamente rivoluzionaria e soprattutto consente di applicare questa energia, stiamo parlando di quella che viene definita eco-laser, perché vuol dire eco-laser, vuol dire l'applicazione di un laser che ha una lunghezza d'onda particolare, che viene innanzitutto infisso all'interno del tessuto prostatico attraverso un ago molto più sottile degli agi utilizzati per l'intramuscolo, quindi un ago veramente molto sottile, che viene guidato da una sonda ecografica, quindi viene posizionata la sonda ecografica a livello transrettale e poi questo ago viene infisso sotto una guida ecografica che consente il perfetto posizionamento, addirittura millimetrico, di questa sonda laser, che quindi viene applicata in maniera assolutamente perfetta con una distanza ottimale sia dal collo della vescica che dall'uretra, quindi l'uretra non viene discontinuata contrariamente a tutte le altre tecniche, dicevamo viene posizionata questa sonda che comporta una necrosi del tessuto, quindi una cavitazione, quindi si forma una vera e propria caverna, il tessuto viene poi riassorbito e quindi viene meno la pressione sull'uretra e quindi la difficoltà alla minzione viene risolta con la possibilità di svuotare completamente e facilmente la vescica come per una persona assolutamente normale. Dobbiamo dire che preliminamente viene fatta anche un'anestesia cutanea perineale. Viene fatta un'anestesia con pochi uccidi di anestetico locale, sì è veramente una cosa minima, il paziente subito dopo l'intervento può bere, dopo un paio d'ore può cenare, quindi non solo ritorna a casa, ma addirittura può cenare normalmente come se nulla fosse, non c'è assolutamente una perdita di sangue, quindi le urine sono assolutamente limpide, quindi non viene perduto neanche un globulo rosso, quindi è veramente un enorme avanzamento. Che vuol dire? Vuol dire che intanto può essere utilizzato in quei pazienti fragili, come dicevamo, che non possono essere sottoposti per esempio ad anestesia. viene utilizzata nei pazienti anche che hanno delle gravi cardiopatie, pazienti diabetici, nei pazienti che hanno problematiche respiratorie importanti, i pazienti che praticano terapia anticoagulante non devono interrompere questo tipo di terapia, appunto perché non viene discontinuata l'ureta, quindi non si ha perdita di sangue. Si, ma in sostanza per chi non può essere effettuato... Allora, questo dicevamo che ovviamente non è la panacea, innanzitutto un altro dato importante da sottolineare è il fatto che non viene perduta l'eiaculazione. Questo non è un fatto da poco, perché a volte l'ipertrofia prostatica, che non ha, dicevamo, una regola assoluta, può interessare anche persone giovani, e quindi persone che magari ancora non hanno avuto dei figli e quindi desiderano eventualmente una gravidanza e in questo caso i pazienti mantengono l'eiaculazione, quindi questo è un enorme vantaggio per i pazienti giovani, quindi non solo i pazienti anziani con gravi patologie, ma anche i pazienti giovani che non vogliono perdere l'eiaculazione o anche in pazienti che, per esempio, non possono effettuare una terapia farmacologica per gli effetti collaterali di cui sopra c'è il fatto, per esempio, dell'abbassamento della pressione, che può comportare la perdita della coscienza. Ritorniamo per un attimo al catetere. Io leggo qui degli appunti che nel 33% dei casi viene rimosso dopo 12 ore, poi può essere rimosso in 3-7 giorni, oppure in 2-4 settimane. Ci possono essere delle complicazioni a seguito di questo trattamento? Le complicazioni sono pari allo zero. È chiaro che in medicina zero non esiste, però il fatto di posizionare il catetere per così poche ore, quindi dicevamo che un terzo dei pazienti rimuovono il catetere l'indomani mattina e un altro terzo dopo 3-4 giorni, 5 giorni. Questo che vuol dire? Vuol dire innanzitutto che non si hanno perdite di giornate lavorative, perché questi pazienti dopo 3 giorni al massimo possono ritorno. Quindi, per esempio, se l'intervento viene fatto il venerdì pomeriggio, il lunedì mattina la gente toglie il catetere e può andare a lavorare. Quindi questo è un enorme vantaggio da un punto di vista, ripeto, dell'attività lavorativa, quindi non poco. Ma al di là di questo, il fatto di rimuovere il catetere, ripeto, dopo 12-18 ore, o dopo 3-4 giorni, o dopo qualche settimana, dipende naturalmente dalle dimensioni del tessuto che deve essere necrotizzato. Questo trattamento può essere utilizzato anche per prostate di 100 grammi, quindi per prostate molto grosse, che quindi ovviamente hanno necessità di più tempo per essere riassorbite, quindi per perdere quella che è la compressione, come dicevamo, sull'uretra, e quindi consentire la ripresa della minzione. Ma se lei considera che già il 66% delle persone riprendono ad urinare ad un massimo di 3 giorni, e quindi un'attività lavorativa dopo 3 giorni, già basta pensare a questo e sicuramente il vantaggio è notevole. Un altro vantaggio nella rimozione rapida è gli scarsi effetti collaterali sull'uretra. L'uretra, che dicevamo è il tubo che porta le urine dalla vescica all'esterno, è estremamente sensibile al catetere, quindi un catetere di grosse dimensioni o che viene tenuto per tanto tempo, può comportare un restringimento di questo tubo e questo ha ovviamente una complicanza importante che con questo trattamento, visto che c'è una rimozione rapida, è assolutamente eccezionale. Quali possano essere i vantaggi per la sanità italiana? Questo è un intervento che può essere fatto in delle salette di disagio, in delle salette appunto molto meno, come dire, attrezzate per eventuali interventi chirurgici, quindi le sale operatorie possono essere utilizzate per l'altro tipo di interventi, quindi è un enorme vantaggio non solo per i pazienti, ma anche per la sanità pubblica. Quali sono i centri in Italia dove si può realizzare un intervento di eco-laser? Adesso questo intervento di eco-laser appunto diciamo si chiama eco-laser perché il laser viene guidato ecograficamente e questo è molto importante perché consente di valutare in tempo reale l'effetto del laser, quindi può essere procrastinato di qualche minuto, sono interventi che durano veramente molto poco. oggi dove è applicata? In Italia ormai ci sono tantissimi centri, a Torino ci sono dei centri, a Milano più di uno, a Roma 4-5, ad Avellino, a Bari, a Perugia, adesso a Palermo da qualche mese, quindi diciamo che ormai è una tecnica che si va diffondendo appunto per gli enormi vantaggi rispetto alle tecniche classiche. Dove è stata sperimentata per la prima volta? E allora si è partiti direi quasi involontariamente come spesso succede in medicina perché questa tecnica viene utilizzata oltre che per l'ipertrofia prostatica, quindi in urologia anche per il tumore della prostata, anche se questo è ancora soltanto come in centri assolutamente sotto controllo, quindi a livello quasi sperimentale, ma viene utilizzata in urologia anche per esempio per i tumori renali, ma si è partiti con l'utilizzo per le patologie tiroidee. Quindi questa sonda veniva posizionata a livello dei noduli tiroidei che venivano appunto necrotizzati. Poi un radiologo interventista ha avuto l'idea di provarlo a livello della prostata e alla fine del 2017 appunto sono stati effettuati i primi due in Italia, i primi due trattamenti dell'ipertrofia prostatica. Visto il vantaggio che si è rivelato immediato anche su questi soltanto due casi e si è cominciato ad aumentare ad estendere la tecnica ad altri pazienti e quindi piano piano si è diffuso, ma ripeto, i vantaggi sono veramente notevoli, per cui non ha avuto difficoltà la diffusione della tecnica che ormai viene accettata universalmente e quindi si sta continuando ad espandere. Consideri che per l'ipertrofia prostatica c'è già l'approvazione della Food and Drug Administration che è l'ente che certifica i trattamenti negli Stati Uniti. Chi può effettuare questo trattamento? Deve essere un chirurgo, un urologo? Di solito sono gli urologi o i radiologi interventisti. Comunque è chiaro che l'urologo ha non solo la tecnica da poter attuare, ma la possibilità di seguire nel postoperatorio il paziente. Il radiologo interventista probabilmente si limita ad effettuare il trattamento e poi ad affidare il paziente eventualmente all'urologo che segue il postoperatorio. Il postoperatorio che dicevamo è veramente breve nel senso che il vantaggio è quasi immediato e in che cosa consiste il controllo? Nella valutazione di quello che è il ristagno. Dicevamo che un'ipertrofia prostatica schiacciando il canale non consente di svuotare bene la vescica. Quindi se si ha, come si ha con questa tecnica, una riduzione della compressione dell'uretra, la vescica si svuota completamente e quindi il paziente non rischia più le infezioni, i calcoli, il sangue, eccetera e soprattutto riacquista una qualità della vita migliore. Quindi non c'è più il fatto della nicturia o il fatto di alzarsi la notte, di urinare spesso e di avere un getto ridotto. Ecco, l'applicazione di queste nuove tecniche cosa significa per la chirurgia tradizionale? Questo significa sicuramente una riduzione di quelli che sono gli interventi classici. Devo dire che in questo momento è una tecnica anche questa relativamente a basso costo. Cosa voglio dire? Voglio dire che le sonde laser in questo momento ovviamente hanno un costo discreto e quindi bisogna applicarne da 2 a 4 in base alle dimensioni della prostata ma poi in verità i costi si abbattono rapidamente perché basta pensare che non c'è ospedalizzazione quindi già questo abbatte enormemente il costo del trattamento di un paziente affetto da ipertrofia prostatica. Può essere una prevenzione appunto per l'ipertrofia prostatica? E allora purtroppo non esiste assolutamente niente che possa consentire una prevenzione dello sviluppo dell'ipertrofia prostatica anche se ormai è stato accertato che i fatti flogistici cronici quindi un'infiammazione cronica della prostata può innescare una serie di meccanismi che con una cascata enzimatico ormai super conosciuta quindi ormai approvata e accertata scientificamente può portare quindi dall'infiammazione della prostata può portare innescare meccanismi che possono portare all'ipertrofia prostatica benigna o peggio ancora al tumore della prostata ecco perché un'infiammazione della prostata deve essere trattata fino a completa guarigione quindi non è vero che l'infiammazione è una patologia di scarsa importanza tant'è vero che la flogosi è stata considerata il killer del terzo millennio quindi i pazienti affetti da infiammazione della prostata dovrebbero essere presi in considerazione come pazienti che possono sviluppare malattie anche più serie addirittura arrivare fino al tumore della prostata quando occorre effettuare gli esami per appunto individuare un'ipertrofia prostatica e quindi mi riferisco all'uroflussometria al PSA all'ecografia intanto non è assolutamente vero quello che si sente dire molto spesso e cioè il fatto che per esempio alzarsi la notte per urinare è normale perché è dovuto all'età no ci sono persone che hanno 90 anni che non si alzano di notte perché non hanno un'ostruzione prostatica persone a 50 anni che invece si alzano perché hanno già un'ipertrofia prostatica quindi il fatto di alzarsi non vuol dire che si è anziani vuol dire che si ha una patologia prostatica e quindi questi sono i primi pazienti che debbono effettuare una visita urologica e quindi una prevenzione delle complicanze quindi non aspettare di avere delle infezioni urinarie ricorrenti per andare dall'urologo ma il fatto di interrompere il sonno già è un problema che deve essere risolto perché può sviluppare delle problematiche seguenti ancora per quanto riguarda dicevamo il tumore della prostata c'è il concetto della familiarità e questo è fondamentale perché non esiste nient'altro se non questo concetto della familiarità che in questo momento è stato individuato nel mondo come una predisposizione verso il tumore della prostata un altro dato importantissimo è il PSA che cosa vuol dire PSA vuol dire antigene prostatico specifico che cos'è è una sostanza che è prodotta dal tessuto prostatico quindi qualunque tessuto prostatico anche in un bambino produce una certa quantità di PSA questo PSA aumenta la produzione del PSA aumenta in caso di o per esempio un'ipertofia prostatico quindi la formazione di più carne della prostata per capirci quindi se c'è più tessuto prostatico ci sarà un aumento del PSA un tessuto prostatico benigno infiammato produce più PSA un tessuto neoplastico quindi un tumore della prostata produce PSA quindi pur non essendo la panacea il PSA non è il Vangelo il PSA vuol dire vai a vederci qualcosa che non va vai a controllare questa prostata un'altra cosa che deve purtroppo dovrebbe essere combattuta è questo famoso valore normale fino a 4 non è vero quello che viene scritto nei laboratori che il PSA fino a 4 è normale il PSA non deve aumentare non deve aumentare più di 0,3 all'anno 0,3 nanogrammi all'anno o 0,7 nanogrammi all'anno secondo le dimensioni della prostata perché altrimenti questo è sospetto di che cosa? di qualcosa dicevamo o di un'infiammazione o di un'ipertrofia prostatica che si è innescata e che continua ad andare avanti o peggia ancora ad un tumore e poiché qualsiasi malattia all'inizio ha un significato ma peggiora la sua valenza ovviamente trascurata è chiaro che oggi per esempio il tumore della prostata che è una patologia che oggi grazie all'enorme sviluppo della tecnologia non solo l'ecolaser che può consentire appunto di trattare dei noduli isolati di tumore della prostata ma anche per esempio le prostatectomie che possono essere effettuati oggi praticamente in tutti i centri urologici con le varie tecniche da quella più tradizionale che è quella open quindi tagliando la pancia per capirci a quella invece con i buchetti che sarebbe la proscopia o ancora alla robotica che è un ulteriore avanzamento anche se nessuno ha dimostrato che questo magari è un'enorme valentia è chiaro che ogni chirurgo deve fare quello che sa fare quindi non deve essere il paziente che chiede il tipo di tecnica che deve essere applicata ma è chiaro che è il chirurgo che deve utilizzare la tecnica che sa fare quindi dicevamo qualunque patologia all'inizio ha una valenza trascurata ovviamente è molto peggio l'ultima domanda le volevo chiedere dopo l'intervento di Nicoláser cosa può accadere una ricaduta e quando si debbano fare i controlli e allora i controlli sono stati ormai codificati si fa un controllo ad un mese un controllo a tre mesi e poi si faranno i controlli annuali come per qualsiasi altra persona perfetto ci fermiamo qua io la ringrazio tantissimo ritengo che questo nostro dialogo a distanza sia stato molto importante per coloro che seguiranno questa traduzione quindi grazie tante e complimenti per questa tecnica grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti